Ciao ragazzi, io sono Gianluigi Mussi, in arte Gianci, ma per questo talk show, e sì avete capito bene, talk show che andrà in onda una volta a settimana prossimamente, sarò alla conduzione di Fatti e di Batti. Uè, 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 ma ci sono anch'io però in questo programma. Esattamente, c'è anche Victor Piredda, musicista e compositore e alla co-conduzione, mi aiuterà in questo programma. Siamo la speranza che le mie note vi regaleranno molta emozione, ecco. Fatti e dibattiti. Per ogni fatto, un dibattito. A presto!